Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo martedì l'anticiclone tenderà a rinforzarsi ulteriormente su tutta Italia, già da queste immagini satellitari è evidente il rinforzo dell'anticiclone sull'Europa centrale e proprio sull'Italia, mentre qualche nota instabile persiste sulla penisola iberica, però per il momento non riguarderà lo stivale. Nel corso di questo martedì, stabile su tutta Italia, anche in Abruzzo, giornata quasi primaverile, quantomeno sotto l'aspetto dei cieli, avremo infatti cieli sereni praticamente su tutta la regione, nessun rischio di annuvolamenti o precipitazioni. Temperature comunque stazionario al più in leggero, leggerissimo, mento nelle massime, valori fino a 11 o 12 gradi alle basse quote, molto freddo all'alba, risveglio con minime tra almeno 1 e 6 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento.